Credo che ora gli elettori del PD, ma i cittadini italiani, hanno voglia solo di vedere cose concrete, hanno voglia solo di vedere soluzioni, hanno voglia solo di vedere applicate tutte quelle norme, quelle regole e anche quelle risorse per far ripartire il Paese. Abbiamo bisogno di ripartenza, abbiamo bisogno di progetti, abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di un governo nel pieno delle sue funzioni che oggi purtroppo non è in questa situazione. Quindi il PD sta facendo un lavoro serio, di costruzione, coerente, rispettoso con quello che è stato il lavoro anche all'inizio di questa legislatura, da quando quantomeno il PD è andato al governo. Poi tutto il resto sono polemiche o discussioni anche interne al partito che dovremmo vedere dopo. Prima viene l'interesse dei cittadini, prima viene l'interesse di un governo forte, solido e pronto a governare fino a fine legislatura per aiutare la ripartenza da questa crisi che purtroppo è ancora in corso. Io continuo a credere che il prossimo governo debba essere Conte Terra anche perché le posizioni dei due principali soggetti politici della maggioranza, cioè 5 Stelle e PD, sono molto chiare. Oltre a dire Conte Terra è bene però riempire di contenuti il piano con il quale rilanciare questo nuovo governo e mi pare sia lo sforzo di queste ore, ma ciò che importa è che qualunque sia la composizione ci sia una grandissima attenzione ai territori.